Soddisfazione per le buone relazioni bilaterali e l'auspicio che possano realizzarsi le aspirazioni e i crescenti sforzi della Macedonia per far parte dell'Europa Unita. È quanto è stato ribadito nel corso dei colloqui cordiali tra Papa Francesco e Gheorghe Ivanov, presidente della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. In una nota della Sarastampa Vaticana si riferisce che sono stati presi in considerazione alcuni temi di politica internazionale, in particolare l'attuale contesto globale anche in relazione alle persistenti difficoltà di natura economica e sociale e sulla necessità di un impegno condiviso per offrire assistenza al gran numero di profughi in arrivo nella regione. Infine è stata rilevata l'importanza di favorire sempre più il dialogo e la convivenza tra le varie realtà etniche e religiosi della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.